Mi chiamo Raffaella, sono una sora di 33 anni, vivo qui a Bari in questo bellissimo posto che è il centro diurno Volto Santo. I bambini che arrivano qui sono segnalati dal servizio sociale o arrivano qui per un passaparola tra mamme in difficoltà che hanno bisogno di un sostegno al processo educativo dei loro bambini. Gli occhi di ciascun bambino chiedono tempo, chiedono di essere accolti, chiedono di essere intercettati, sono sguardi spesso sfuggenti, spesso non capaci di reggere il confronto, per cui sono occhi che vanno scrutati quando loro non sanno ancora di essere visti, nell'attesa che possano sostenere la relazione. Sono occhi luminosi, belli, vivi, che hanno bisogno di avere uno spazio dove poter esprimersi.